benvenuti in questa guida top 7 jeans donna di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo only onlblush jeans rintocco sostenibile lavaggio only onlblush life mid flared bb rea 1319 vediamo la nostra valutazione un'eccellente qualità generale nell'offerta assegniamo tre stelle con particolari caratteristiche nel rapporto qualità prezzo raggiunge tre stelle il nostro punteggio generale è di 79 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo find mid 5 tasche lavaggio sbiadito vestibilite morbida find mid rise jeans straight donna blue mid wash taglia unica taglia produttore x large ecco cosa pensiamo una discreta qualità generale nell'offerta assegniamo 5 stelle per le funzionalità raggiunge 4 stelle diamo 4 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 83 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo pepe jeans 925 cotone 6 poliestere 15 e la stan lavabile in lavatrice a 30 c bottone e chiusura lampo pepe jeans jeans straight jeans blue denim f50 20 vediamo la nostra valutazione 4 stelle nella qualità generale valutiamo l'offerta 3 stelle con una funzionalità eccelsa sopra la media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 86 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare only on vineda jeans in cotone sostenibile vita alta e taglio lungo alla caviglia 5 tasche con chiusura lampo only on vineda life mom jeans rea 7452 denim blue vediamo il nostro parere una qualità generale eccezionale 3 stelle nell'offerta con particolari caratteristiche sommariamente ottimo il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 90 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo only coral only coral slsk denim jeans nose skinny donna blu medium blu denim w 27 l 30 vediamo la nostra opinione la qualità generale raggiunge 3 stelle ottima offerta online nelle caratteristiche diamo 3 stelle nella media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 91 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo fraternel jeans fraternel jeans donna boyfriend baggy blu taglia m ecco la nostra valutazione una soddisfacente qualità generale ottima offerta online nelle caratteristiche raggiunge 5 stelle risulta tra i top nel rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 88 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica only onl w w w jeans sostenibili cotone biologico elastico only onl w w w life mid sk dest bi lunga 759 nos ecco il nostro parere un eccezionale qualità generale uno sconto davvero importante nelle caratteristiche diamo 4 stelle assegniamo 5 stelle per il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 98 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale a